Confesso che la voglia era tanta, c'era la voglia di mettere in cascina altri tre punti ma comunque di tornare alla vittoria tra le mura amiche perché comunque ci mancava da troppo tempo. L'abbiamo fatto contro una grandissima squadra perché se andiamo a vedere l'Atalanta e il cammino che sta facendo dimostra che oggi è veramente una grande vittoria. Sì, la squadra sono stati bravissimi dietro ma anche i centrocampisti a far sì che gli attaccanti e a far sì che arrivassero pochi rifornimenti e credo che oggi è stata una grande prova di compattezza e abbiamo dimostrato appunto di volere questo risultato anche in virtù di questo atteggiamento che è stato premiato per il sacrificio che hanno messo tutti.